Poi 6.13 Nasdaq Griff, 100 metri allo stacco. In partenza veloce, Iosef rigreppi su Nasdaq Griff, Iosef cerca di superare Nasdaq Griff, è veloce anche Nocebuena e passa Iosef in 150 metri, molto sostenuti, 13.5. All'esterno c'è subito l'attacco di Nemesis OM che ottiene strada da Iosef con strappo notevole, Nemesis passa, 400 iniziali in 28 spaccati e Nemesis OM in vantaggio, Iosef De Greppi in seconda posizione, si porta al suo esterno presto per andare a chiedere il cambio, Nemesis OM è frenata dal suo interprete, 600 intanto in 45, Iosef De Greppi impiega un po' a superare Nemesis OM, poi riesce nell'intento e dopo 700 metri è nuovamente leader. Completamento del mezzo miglio in 1-1-7 con Iosef in vantaggio su Nemesis OM, all'esterno risale Noreen Stift, alla corda c'è sempre Nasdaq Griff, poi Olivia Rivarco, ancora Kayam RR più indietro. intanto 500 poco più alla conclusione, ha spostato nuovamente Nemesis OM per andare su Iosef De Greppi e così guadagna una posizione Nasdaq Griff, intanto c'è la progressione a centro pista da parte di Olivia Rivarco, poi Nadimbi, cavalli sulla curva conclusiva, Nadimbi viene cattiva a centro pista, Nadimbi scatta, seguita da Nero Subianco ATC, Iosef De Greppi al comando all'ingresso addirittura, ma Nadimbi sprinta insieme a Nero Subianco, ultimi 100 metri di gara con Nadimbi che prende il sopravvento, Nero Subianco ATC prova a difendersi, poi Nasdaq Griff nel finale, Nero Subianco passa su Nadimbi, terzo posto per Nasdaq Griff, dopo il calo di Iosef De Greppi, 2-2-8 e Roberto Vecchione con Nero Subianco ATC passa nel finale, piegando Nadimbi, quota di 9-42 per l'allievo di Vecchione, che passa già i 20 metri conclusivi, poi agevolmente riesce a completare il sorpasso sul traguardo, praticamente un cavallo. Al terzo posto, lungo la corda, finisce bene il numero 5 Nasdaq Griff.